Dove eravate? Non sapevate che stasera ero in tv? Una delle mie migliori performance. Non ve la siete persa? Ma è la mia tazza. Ma io vi ho portato MySky, così potete registrare le vostre serie preferite con un solo tasto. Dove stai andando? Un attimo in bagno. Meno male che c'è il tasto pausa. Solo con MySky puoi registrare le tue serie preferite e guardare gli episodi che vuoi quando vuoi, come dovrebbe essere. Ah, è finita l'aranciata. Grazie.